ben trovati da cobat tv torna la rassegna stampa selezione delle principali notizie della settimana in questa puntata parleremo di batterie litio ma anche di fondi per le imprese report su economia circolare ed eco mafia allora andiamo a vedere cosa c'è in primo piano questa settimana batterie sostenibili e riciclabili la nuova proposta della commissione europea nasce reneos soluzione europea per le batterie a litio fondo economia circolare per le imprese al via le domande italia del riciclo il virus non ferma la raccolta e infine eco mafia e allarme per il traffico di rifiuti e gli incendi cominciamo la nostra rassegna stampa con la commissione europea che il 10 dicembre scorso ha ufficialmente lanciato una proposta di regolamento sulla gestione di pile e accumulatori e relativi rifiuti che andrà di fatto poi a sostituire la storica direttiva 66 del 2006 che sarà abrogata a partire dal primo luglio 2023 il testo che fra l'altro è anche piuttosto corposo conferma a quelle che erano le anticipazioni del commissario all'ambiente sinche vicious alla financial times di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata e parla di batterie sostenibili ad alta prestazione e sicure per tutto il loro ciclo di vita con obiettivi di raccolta e riciclo più stringenti batterie che abbiano il minore impatto ambientale possibile costruite utilizzando materiali ottenuti nel pieno rispetto dei diritti umani nonché degli standard sociali ed ecologici e infine batterie durevoli e sicure che alla fine del loro ciclo di vita possano essere riutilizzate rigenerate o riciclate reimmettendo materiali preziosi per l'economia i dettagli di questa proposta la sintesi di questa proposta tradotta in italiano la potete trovare sul nostro sito internet cobat.it nella sezione comunicazione press room e continuiamo a parlare di batterie batterie a litio in questo caso con la nascita di reneos la prima grande piattaforma europea per la raccolta e il riciclo delle batterie agli ioni di litio che prende ufficialmente il via tra i fondatori di questa piattaforma europea c'è e cobat unico partner italiano le migliori esperienze di logistica e trattamento di questa particolare tipologia di rifiuto le batterie a litio appunto si sono organizzate per fare squadre e offrire una soluzione all'intera industria europea del settore che finalmente può fare affidamento su un solido network di organizzazioni di raccolta e riciclo delle batterie utilizzate per i veicoli elettrici ma non solo anche per lo storage di energia domestico e per le applicazioni industriali a creare la piattaforma sono state le nazioni leader nella gestione delle batterie con l'obiettivo di far fronte all'imminente boom delle auto elettriche e per l'italia lo abbiamo già detto c'è cobat continuiamo la nostra rassegna stampa parlando adesso di fondi per le imprese ci sono importanti novità per le aziende che vogliono accedere al fondo del ministero dello sviluppo economico per i progetti di ricerca e sviluppo in ambito di economia circolare il mise sul proprio sito internet ha comunicato che le imprese proponenti possono ottenere le attestazioni di disponibilità a concedere il finanziamento bancario entro e non oltre i 30 giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda di accesso tali attestazioni andranno presentate al soggetto gestore in vitalia a completamento della domanda appena la decadenza della stessa la precisazione è arrivata con il decreto direttoriale del 7 dicembre che integra un precedente provvedimento del 5 agosto relativo al fondo per l'economia circolare le imprese interessate possono dunque presentare la domanda esclusivamente online lo possono già fare era a partire dal 10 dicembre scorso anche in forma congiunta dalle 10 alle 19 dal lunedì al venerdì è sempre sul nostro sito nella sezione comunicazione press room è possibile trovare tutti i dettagli per partecipare concludiamo la nostra rassegna stampa con due report il primo parla dell'italia del riciclo al tempo del covid con l'effetto del coronavirus sul settore della gestione dei rifiuti un effetto che è stato forte ma il sistema ha retto ed è riuscito ad evitare la crisi garantendo tutte le fasi continuando a garantire tutte le fasi di raccolta trattamento e riciclo questo è quanto emerge dal rapporto l'italia del riciclo 2020 il report annuale curato da fise unicircular e fondazione per lo sviluppo sostenibile con il sostegno di ecobat dal rapporto emerge la richiesta delle imprese di riciclo per incentivare gli obiettivi di economia circolare fissati a livello europeo serve per le imprese una semplificazione amministrativa e normativa e misure di sostegno al mercato dei prodotti riciclati e ora parliamo di qualcosa che ha continuato a non fermarsi e purtroppo questo è il cosiddetto virus dell'ecomafia nel 2019 sono aumentati i reati contro l'ambiente una media di 4 ogni ora con un incremento di oltre il 23 per cento rispetto all'anno precedente quanto emerge dal rapporto ecomafia 2020 curato dall'osservatorio nazionale ambiente e legalità di legambiente pubblicato da edizioni ambiente con il sostegno di cobat due argomenti in particolare emergono con forza nell'edizione di quest'anno il traffico internazionale di rifiuti e il crescente fenomeno degli incendi agli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti stessi anche in questo caso vi invitiamo a consultare la sezione press room del nostro sito dove è possibile trovare tutte le sintesi e scaricare direttamente i report questa era l'ultima notizia della rassegna stampa da tutti noi l'augurio di una buona settimana